La parrocchia di Salce è entrata a pieno titolo nell'atmosfera natalizia, un manipolo di volontari ha infatti addobbato le vie del paese con le tradizionali rappresentazioni sacre. I presepi fanno parte di un percorso prestabilito che vedrà il suo culmine le domeniche del 18 dicembre e del 7 gennaio con due appuntamenti speciali che animeranno il borgo alle porte di Belluno immergendo i visitatori nello spirito della natività di Gesù. Noi abbiamo pensato che come ci sono i mercatini natalizi dove si vendono cose buone da mangiare, stelle di Natale eccetera, può esistere anche un tour dove si possono ammirare dei presepi fatti in modo artigianale dagli abitanti del borgo e che possa perciò permettere ad ognuno riflettere sulla vera gioia che ci dà la nascita di Gesù. Abbiamo prestato la nostra attenzione a cinque postazioni, ci sarà la possibilità nel giorno 18 e il giorno 7 di fare una visita guidata e queste postazioni saranno anche animate, fatte per poter stimolare spunti di riflessione. In queste due date ci sarà la possibilità dalle 14 e 30 di essere accompagnati da una guida alla scoperta dei presepi in un suggestivo cammino con musiche e poesie percorribile anche autonomamente in tutto il periodo natalizio. Questo percorso è attraverso le strade del borgo tra Salce e Giamosa e verrà guidato anche attraverso dei cartelli idonei che ci indicano quali sono le postazioni e il percorso da fare per completare il giro.